ciao ragazzi qui ma ti piace oggi vi andrò a rivelare il segreto per l'imbattibilità nello sport olimpico d'istituto ovvero il tris sono sicuro che ognuno di voi in un'ora di buco in cui si annoiava o anche in una lezione poco interessante avrà provato a giocare a tris se proprio ci volete giocare non fatelo durante le ore di lezione ma soprattutto qual è il segreto per essere imbattibili andiamolo a vedere insieme innanzitutto consideriamo la nostra scrocchiera diciamo del tris i possibili tris sono con una linea orizzontale in alto oppure una linea orizzontale al centro una linea orizzontale in basso oppure una linea verticale a sinistra o al centro o a destra infine si può fare tris anche in diagonale prima diagonale e seconda diagonale quindi in tutto ci sono otto possibili tris ora ci sono anche due casi potremmo iniziare noi e quindi essere in una posizione di vantaggio oppure iniziano gli avversari in quel caso ci troviamo in una posizione difensiva partiamo dal primo caso inizio io se devo iniziare io la cosa più importante da tenere a mente è iniziare con la casella che mi dà la possibilità di fare più tris possibili ma allora qual è questa casella più importante io potrei iniziare per esempio da una casella laterale ovvero da questa casella in cui ho messo la croce oppure in una di queste altre tre ma iniziare da questa casella in realtà non è molto comodo perché mi dà la possibilità di fare tris soltanto in verticale oppure un tris in orizzontale quindi da quella casella di partenza ho solo due possibili tris in alternativa a questa scelta potrei decidere di iniziare da un angolo e questo è un angolo oppure questi altri tre ma iniziando da uno di questi tre angoli effettivamente la situazione migliora un po rispetto a prima perché posso fare un tris in orizzontale un tris in verticale e anche un tris in obliquo quindi ho tre possibilità di tris ma non è ancora la scelta migliore infatti la scelta migliore è sempre quella di posizionarsi al centro che ci dà la possibilità di una diagonale ma anche dell'altra diagonale oltre che un tris in verticale e un tris in orizzontale quindi abbiamo quattro possibilità di tris quindi se inizio io inizierò sempre dal centro una volta conquistato il centro il mio obiettivo sarà quello di andare occupare oltre al centro anche due angoli chiaramente avversario permettendo quindi posizionarmi in una situazione di questo genere oppure in una situazione ad esempio di questo genere perché così facendo io avrei la possibilità di fare un tris per esempio con questa diagonale oppure potrei fare tris lungo quest'altra diagonale e avrei anche una possibilità di tris verticale orizzontale a seconda di come io metto il centro e i due angoli però chiaramente tutto sta rispetto a qual è la scelta che fa l'avversario se l'avversario fa una scelta intelligente ovvero l'avversario scegli un angolo in questo modo quello che dobbiamo andare sempre a fare per coprire maggiormente quelle che sono le nostre idee è andare a posizionarsi sull'angolo opposto in maniera tale da non dare all'avversario un angolo sicuro da occupare ad esempio se io da questa situazione mi fossi posizionato in quest'angolo avrei costretto l'avversario per difendersi dalla mia possibilità di tris a occupare l'angolo opposto ma questo mi impediva poi di andare a occupare il quarto angolo infatti se occupassi il quarto angolo lascerei strada libera all'avversario per fare tris ma allora quello che dobbiamo andare a fare è occupare proprio quest'angolo opposto una volta fatto questo lui non ha un tris nostro obbligatorio da chiudere quindi andiamo verso il pareggio solo se lui non sbaglia ma qual è un errore che potrebbe commettere ad esempio potrebbe posizionarsi in una casella centrale quindi non occupare un angolo se si posiziona in una qualsiasi delle caselle centrali il gioco per noi è fatto infatti mettiamo che si sia posizionato in questa casella noi in maniera del tutto naturale andiamo a bloccare la sua strada per il tris ma così facendo abbiamo il centro e due angoli che ci portano a due possibili tris uno in diagonale e uno in orizzontale l'avversario potrà chiuderne solamente uno di conseguenza noi andremo a fare tris ora l'altra situazione è che l'avversario continua a non sbagliare per non sbagliare l'avversario deve per forza occupare un altro angolo l'occupazione degli angoli come abbiamo visto già prima è fondamentale una volta che lui fa questo noi non possiamo occupare il quarto angolo ma dobbiamo chiudere la sua strada per il tris questo ci impedisce quindi di usare la nostra strategia e l'avversario di conseguenza andrà a bloccare la nostra strada per il tris noi possiamo fare un ultimo tentativo sperando che l'avversario sia il mai distratto per fare tris ma se tutto va come dovrebbe insomma a questo punto l'avversario chiude e finisce in un pareggio ma non perdiamo altra situazione invece se una volta che noi abbiamo scelto il centro l'avversario va a scegliere una casella centrale invece di un angolo a questo punto per noi la vittoria è certa chiaramente che dobbiamo fare per assicurarci la vittoria dobbiamo scegliere un angolo una volta che abbiamo preso un angolo vedete che per forza l'avversario dovrà chiudere il nostro possibile tris nell'angolo opposto a questo punto ci sono due angoli dobbiamo scegliere l'angolo in cui non c'è il suo cerchio tra le nostre croci quindi dobbiamo scegliere in questo caso l'angolo in alto a sinistra perché l'angolo in basso a destra ha in mezzo il cerchio quindi ha una chiusura già fatta così facendo abbiamo due possibili tris vedete uno in diagonale e uno in verticale l'avversario ne potrà chiudere solamente uno questo in verticale ad esempio noi andremo a fare tris in diagonale quindi ci sono varie possibilità di vittoria se andiamo a iniziare noi chiaramente dobbiamo sperare che l'avversario non abbia visto questo video che cosa succede invece se inizia l'avversario se inizia l'avversario la situazione per noi è molto difensiva quindi l'importante quando inizia il vostro avversario è puntare al pareggio non potete pensare di puntare alla vittoria salvo errori clamorosi quello che dobbiamo fare di nuovo è sempre scegliere la casella con più tris possibili ma questo che cosa significa che se anche l'avversario fa la scelta migliore ovvero sceglie il centro voi quello che potete fare è limitare i danni andando a posizionarvi su un angolo se invece per esempio l'avversario andasse a scegliere un angolo sarete voi a occupare subito il centro però anche occupando il centro purtroppo siete comunque in strada difensiva quindi potete solo sperare in gravi errori dell'avversario per esempio se voi occupate il centro l'avversario che sceglie una tattica buona va a occupare un altro angolo voi quello che dovete fare naturalmente qui è chiudere la strada per il tris una volta che l'avete chiusa l'avversario dovrà chiudere il vostro possibile tris e si andrà in maniera naturale verso il pareggio pure potrebbe succedere che per esempio l'avversario usa una strategia un pochino più camaleontica qui dovete stare attenti se l'avversario infatti va a occupare l'angolo opposto un po quello che vi dicevo prima di non far vedere un tris immediato da chiudere voi dovrete essere bravi a non sbagliare bravi a non sbagliare vuol dire questa volta non andare a occupare l'angolo infatti se voi occupate quest'angolo per chiudere il vostro tris nell'angolo opposto l'avversario si creerà una possibilità dei tris in orizzontale e una in verticale quindi avrete perso ma allora come ci difendiamo da questo doppio angolo la strategia è questa volta quella di non scegliere un angolo ma occupare una casella centrale perché occupando questa casella centrale voi costringete l'avversario non a posizionarsi più sull'angolo in alto perché se ci si posiziona voi fate tris ma dovrà per forza chiudervi a questo punto voi chiuderete sull'angolo in alto e si andrà di nuovo salvo errori verso un pareggio però riuscirete a evitare la sconfitta ora l'ultimo caso in cui può iniziare l'avversario è il peggior inizio possibile dell'avversario ovvero l'avversario si posiziona in una casella centrale voi subito come dei falchi andate a occupare il centro mettiamo che l'avversario sbagli di nuovo si posiziona di nuovo in una casella centrale non abbiamo comunque possibilità di vittoria sempre salvo errori però dobbiamo stare attenti a scupare almeno una di queste tre caselle che ho indicato per evitare la possibilità di doppio tris la scelta migliore secondo me è posizionarsi proprio qui in alto a sinistra nell'angolo in maniera tale che l'avversario dovrà andare lontano dalle sue scelte di prima perché dovrà per forza occupare l'angolo in basso a destra per evitare appunto il vostro tris questo punto si va in maniera naturale verso il pareggio perché vedete non c'è un tris immediato né per voi né per l'avversario ultima situazione che si può configurare l'avversario sceglie inizialmente la casella centrale voi rispondete subito al centro e l'avversario questa volta sceglie un angolo quando sceglie l'angolo vedete che quello che dovete fare in maniera naturale è chiudere la sua possibilità di tris a questo punto lui dovrà chiudere la vostra e voi dovrete ancora chiudere la sua lui chiuderà la vostra e la situazione ci porta di nuovo un pareggio ma anche se inizia l'avversario non ci sono strategie che l'avversario può usare se voi vi difendete in questa maniera per portarvi alla sconfitta potrete sempre costringerlo al pareggio se invece iniziate voi il primo passo falso dell'avversario vi porterà sicuramente alla vittoria vi è piaciuto questo trucco è un po'